Filippo Busine, qual è il giudizio della Lega Nord su questo decreto IMU che si appresta a diventare legge? Non si può che salutare con favore l'eliminazione dell'IMU sulla prima casa, che è un bene frutto di molti sacrifici da parte dei cittadini e che tutti volevano eliminare. Resta il fatto che questa è un'imposta nata male, è proseguita peggio, non è mai stata progata, siamo ancora nella fase del rinvio perché non sappiamo ancora che fine farà la seconda rata che dovrebbe scadere a dicembre, il 16 dicembre, non si sa ancora se è abrogata anche quella oltre alla prima, non si sa ancora con che fondi sarà finanziata, insomma l'incertezza più assoluta in cui lasciamo cittadini e comuni soprattutto che quest'anno devono fare il bilancio di previsione per l'anno in corso a novembre, quindi da qua si capisce l'assurdità e il disagio a cui vengono sottoposti cittadini e amministrazioni locali da questo governo incerto a tutto che naviga a vista con provvedimenti assolutamente stemporanei, senza una strategia, senza una linea. C'è un emendamento della Lega Nord che è stato approvato dal governo, di che cosa si tratta? Sì, con soddisfazione perché questo è un emendamento che riproponevamo ad ogni provvedimento del governo, questa volta è passato e praticamente estende i benefici, le agevolazioni per l'acquisto di prima casa o per gli affitti per famiglie indigenti, giovani coppie, lo estende anche a chi ha un disabile in casa. A noi sembra che questo sia stata un'estensione più che opportuna, un cavallo di battaglia che da sempre è della Lega e siamo molto soddisfatti che questo sia stato recepito in aula, direttamente in aula, non dalle commissioni, quindi maggior soddisfazione per questo.